Eeeh, allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gazzette34 ed oggi siamo su un gioco diverso, oggi siamo su Clash Royale che, devo dirvi, io l'ho iniziato da tre giorni e mi ha preso abbastanza, è abbastanza nuovo questo gioco, è uscito da pochissimo se non sbaglio, e infatti ho trovato un sacco di video a riguardo, un sacco di cose ancora, io non so nulla, assolutamente gioco davvero pochissimo, come vedete ho tenuto qualche forziere da aprire insieme a voi perché mi andava di portare un episodio su questo gioco, quindi Vediamo per prima cosa un po' il tutto, allora, su questo gioco io sono free to play ragazzi, quindi non shoppo nulla, ho shoppato un euro perché dovevo creare il clan che ho creato giusto pochi minuti fa, ora non so neanche come funziona un clan, infatti tipo ho chiesto i giganti ma non ho, cioè, non sapevo che poi non potessi chiedere nulla per otto ore, quindi questo qui è il deck che uso, composto da queste otto carte, sto provando al momento questi scheletrini, non li ho mai provati Prima avevo questa signorina qui, la valchiria, però la valchiria poi dopo un po' mi ha rotto il cazzo, quindi ho detto vabbè, proviamo sti scheletrini che costano uno, mi abbassano un sacco la media e potrebbero rivelarsi utili, ma non lo so, ancora a dire il vero, ci ho giocato soltanto una partita, quindi vediamo per prima cosa cosa ci esce da questi bauli che ho Più 28 monete, mi servono tantissimo le monete d'oro, uh, più 2 gemme, ottimo, uno sgherro e 3 carte frecce Ragazzi c'è da dire che io gioco anche su Clash of Clans, quindi ho più o meno un'idea di come siano fatti i personaggi, ma non stiamo parlando di quel gioco, stiamo parlando di questo gioco, questo gioco dove adesso io vado ad aprire questi forzieri Troviamo 32 monete d'oro, 2 carte goblin, 2 carte goblin lanciere, queste qui sono buone, vediamo qui cosa esce 27 monete, quindi posso potenziare le valchirie mi pare Uh, e carte frecce, ottimo, ho visto un sacco di gente che usa le frecce anziché questa carta qui, vediamo un po' se mi conviene anche a me dove sono le frecce, eccole qui Ce l'ho a livello 4, allora usiamo le frecce al posto della palla infuocata e la valchiria al posto di questo tizio, la potenziamo la valchiria Guadagna un po' di cose in più Ok, allora visto che mi hanno dato le gemme per essere entrato nel clan, quindi mi trovo con 127 gemme Poco mi importa di questi bauli, cioè di queste gemme, tanto non le uso per fare nulla Apriamo il forziere d'oro, più 105 monete, davvero un numero alto, 3 sgherri, 4 goblin lancieri, 6 goblin normali E una carta mini pecca, ottimo, ottimo, ottimo Bene, adesso ho un altro bauli in omaggio, più monete, più scheletri, più carte goblin Ok, vediamo se posso potenziare qualcosa del mio deck, direi di no Vediamo se posso potenziare qualcos'altro, gli sgherri livello 3, allora li porto a livello 4 E me li porto in battaglia, al posto di questa signorina Sì, lo so, ti ho rimesso, poi ti ho tolto, ma io non so ancora bene come si gioca Quindi, vediamo come va una partita, vediamo se riesco a trovare un avversario adatto Diciamo, a me Vediamo un po', prima cosa c'è il gigante, che secondo me è importantissimo all'inizio perché Lo piazziamo No, vabbè, che cosa, ma sei pazzo Come, cioè non puoi piazzarmi tutta quella roba insieme Guarda lì, guarda lì che danno Allora, facciamo così, visto che sono partito da questo lato Continuiamo da questo lato Ok, frecce Dai, uccidete quel cavolo di draghetto Questo tizio qui, il cavaliere Lui ha evocato un mini pecca, quindi potrebbe rompermi un bel po' le palle Vediamo questi sgherri come se la cavano, perché Devo dire, fanno un sacco male, anche se hanno poca vita Ok, dai, fate male, fate male, ho detto fate male Non fatevi fare male Ecco, qui sto gigante non mi piace, quindi Mettiamo subito gli scheletrini che gli fanno un sacco di danno E devo dire, gli scheletrini costa un sacco potenziarli Perché, tipo, io li ho visti e ho detto, ma vabbè A certo punto vado per potenziare Mi trovo un milione richiesto di oro Assurdo, veramente un numero è troppo elevato per degli scheletrini Del cazzo Però, però, hanno la loro utilità, quindi Vediamo Vediamo se riesco a vincere questa battaglia Vorrei distruggergli direttamente il municipio Così da fare tre corone Non tre fiamme Vediamo un po', allora Piazzo, piazzo, piazzo Prima un gigante Sì, sì, tu fai pure quello che vuoi da questo lato, tranquillo Poi mi piacerebbe cazzare una di queste Che può essere molto molto utile Il suo gigante che se ne va sull'altra mia torre Ma non mi importa proprio Puoi fare quello che vuoi, tranquillo Ok, quasi quello che vuoi Forza, muovetevi giganti miei Sì, ok Tre corone, ho vinto Perfetto Tre corone, una vittoria per me Tu, invece, mi dispiace Ma un baule d'oro, ragazzi Fantastico Un altro baule d'oro Un gigante ricevuto da Flash Oh mio Dio, grazie mille, Flash Richiesta carte Ciao Ehi, come funziona? Ciao Ok, ti dono Posso donartela? Ok Oddio, figata Donare le carte mi dà No, vabbè, bellissimo Fantas- Cioè, donare carte mi dà oro È fantastico Quindi ora, forse, se ho fortuna Posso potenziare il gigante Vediamo che cosa esce da qui Abbiamo 48 gemme Sì, ce l'abbiamo Apriamolo 102 monete Due carte scheletri Non mi interessano Tre carte bombaroli Non mi interessano Una carta torre bombardiera Non l'ho mai vista Cioè, non l'ho mai vista Nel mio deck, almeno Uh, queste sono buone 8 carte di... Cosa sono? Arciere? E le portiamo a livello 5 Livello 5 Un sacco di danno in più Cioè, un sacco Oddio, più 5 Però Sempre utile Quindi potenziamo Molto felicemente E abbiamo sbloccato questa carta Cosa fa? Vediamo un po' 900 punti ferita Donna ad aria 100 Donna al secondo 62 Velocità colpuno Blah, 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 blah Ehm Guarda, vorrei usarti Ma sei livello 1 Quindi Per adesso tengo Il set che ho Tu perdi sempre nelle battaglie Ma non è vero Non è vero Ho appena vinto Ok, ragazzi Finiamo con l'apertura Di questo scrigno Dovrò riempirmi di nuovo Di 4 scrigni 32 monete d'oro 3 carte scheletro Di cui non mi importa nulla E Un'altra carta Torre bombardiera Wow Sembra buono Quindi la potenziamo E magari la metto Nel set Vediamo che cosa ne esce Forza, potenziamola Pili pipi Pili pipi Ok Più 6 Perfetto Ragazzi, come vi ho detto All'inizio video Io ho creato questo clan Al momento siamo in In Vediamo un po' Siamo in 3 Perché l'ho creato Pochi minuti fa E niente Se vi va di entrare Siete i benvenuti Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi Spero che questa nuova miniserie vi sia piaciuta E vediamo magari come potrà andare avanti Vediamo se avete consigli da darmi Per cose da fare Che cosa vorreste che vi portassi Ovviamente ragazzi Non mi dite Spacchettamenti Di questi Bauli super magici Perché Ve l'ho detto Non scioppo Quindi Non credo aprirò mai Un bauli super magico Anche perché non dovrebbe essere Droppabile Quindi Per questo video è tutto Io spero vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like Un commento E soprattutto Se ancora non l'avete fatto Ad iscrivervi al canale Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima